Simone, allora tornate in campo, una partita importante. Sì, guarda, è bellissimo tornare in campo dopo tanto tempo con una partita così importante, è ancora più bello. Non ero tanto teso, guarda, devo dire che forse è stata quella la cosa positiva. Ero consapevole dell'importanza della partita, però secondo me siamo stati molto molto bravi tutti. Ivan e Bartek hanno fatto una partita strepitosa, quindi sono veramente contento. Adesso non dobbiamo montarci la testa e stare subito lì, perché tra pochissimo abbiamo subito il ritorno. Tecnicamente impeccabili, ma anche caratterialmente, avete superato quei pochi momenti di difficoltà che avete avuto. Ma guarda, quando ci sono queste partite, la tecnica è ovvio che ci vuole, ma ci vuole tanto carattere, perché sono partite che si decidono con uno o due punti, uno o due errori, cose fatte molto bene, quindi ci vuole tanto carattere e stasera noi secondo me l'abbiamo avuto un po' più di loro. La difesa è la spia proprio della grande vostra voglia di vincere. Sì, guarda, Alberto in questi mesi ci ha fatto allenare molto in difesa, perché giocavamo bene, però non riuscivamo a difendere quello che potevamo fare. Quindi questa sera penso l'abbiamo dimostrato e se continuiamo così, secondo me possiamo fare delle gran cose. Anche se in questo momento ha vietato mollare, perché ci sono due set da vincere, a piacenza. No, assolutamente, penso che siamo abbastanza esperti per andare là e sapere come se fossimo sullo 0-0, quindi dobbiamo andare là, iniziare ovviamente con l'atteggiamento giusto come stasera e poi sperare che riusciamo ad affrontare bene il match in battuta, in difesa, in attacco un po' su tutti i fondamentali. La tua condizione in percentuale a che punto siamo? Eh, la mia condizione siamo su 60-65, dai, penso non voglio fare una cosa, però non sono ancora al top, però mi piace giocare queste partite, quindi io do quello che posso in questo momento, poi ovviamente ritornerò al 100% nel più breve tempo possibile. L'agonista che c'è in te viene fuori tutto in queste circostanze? Sì, guarda, io ovviamente come tutti queste partite è stupendo giocarle, se le giochiamo tutti al 100% è meglio perché è più bello, però io do quello che riesco in questo momento e penso a stasera di averlo dato e spero ovviamente i giovedì di stare un po' meglio e dare ancora di più.